Musica Amore, ho scoperto una cosa bellissima Amore, sveglia, sveglia Ho trovato sta cosa bellissima Che cosa? Una cosa per risparmiare online Cioè, te la devo troppo far vedere Vieni, vieni in computer Molto interessante, molto interessante Spero che voi interessi di più Esiste un modo per fare acquisti online su Amazon a minor prezzo Installando un'estensione per Google Vediamo insieme come fare Ok, ora vediamo direttamente dal computer come installare questa estensione Innanzitutto apriamo Google Chrome Digitiamo nella barra delle ricerche Il termine estensione per Google L'estensione si chiama Kipa Tra le prime ricerche Clicchiamo su questo link Che ci riporterà direttamente al sito per le estensioni di Google Chrome Andiamo su Aggiungi Aggiungi estensione E in pochi secondi Vedremo che già è installata l'applicazione Correttamente funzionante Andiamo quindi su Amazon Per fare un confronto, una ricerca E vedere come funziona Primo sito è quello di Amazon Io ho fatto un esempio con la Sony 6300 Che in Italia è a 894,90€ Qualche giorno prima è addirittura a 950€ In basso vediamo quello che questa estensione ci permette di fare Avere già uno storico di tutti i prezzi Che nel corso del tempo Amazon ha rilasciato All'interno della propria applicazione All'interno del proprio sito Possiamo vedere appunto quelli di Amazon Sia il reparto nuovo che il reparto usato E fare dei diversi confronti Vediamo delle statistiche Quindi col prezzo più basso che il prodotto ha avuto E il prezzo più alto che il prodotto ha avuto Ma la cosa più interessante è la sezione Compara prezzi Qui possiamo vedere come questa estensione ci confronta Tutti gli Amazon internazionali Quindi tedesco, francese, italiano, spagnolo Americano, eccetera eccetera Ci fa trovare un elenco del prodotto al miglior prezzo In questo caso il prodotto migliore si trova in Spagna Quindi clicchiamo sul prezzo che ci aggrada di più In questo modo possiamo risparmiare tantissimi soldi In questo caso ad esempio da 894 euro Per lo stesso prodotto andremo a pagare 737,99 euro In maniera molto semplice quindi possiamo andare ad aggiungerlo al nostro carrello E sia all'interno dell'applicazione mobile Sia all'interno del sito online Potremo inserire il nostro account di Amazon E terminare l'acquisto lasciando il nostro indirizzo di destinazione Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale Alla prossima!